Ben tornati a Divenire Club, il podcast che parla di salute, benessere e tecnologia. E oggi abbiamo il piacere di avere in linea il dottor Lovo, direttore dell'innovativa azienda che dà il nome anche alla sua clinica, NeoVita, specializzata per l'appunto in medicina e in tecnologia. Del perché ogni notte ti metti quella già giù in testa. Quel visore serve a catturare i miei sogni e a registrare le sensazioni. Noi curiamo i nostri pazienti con la realtà virtuale. Gli effetti collaterali del T12 si sono amplificati, qualcosa in me sta cambiando. Anche la mia percezione della realtà è ora totalmente diversa. AHHHHH! Aaaaaah! Grazie.